capitolo 36 il mio compleanno segnava sempre l'inizio della fine dell'estate era l'ultimo atteso evento della vacanza e questa estate avrei compiuto 16 anni la festa di compleanno per i 16 anni era considerata speciale importante taylor avrebbe noleggiato una sala ricevimenti chiesto a suo cugino di farle da dj e invitato tutta la scuola erano anni che programmava quella serata i miei compleanni a cousin speech erano sempre uguali una torta i regali scherzosi dei ragazzi la rassegna dei vecchi album di foto durante la quale io stavo stretta tra susanna e mia madre sul divano avevo festeggiato ogni mio compleanno là in quella casa ci sono foto di mia madre seduta sotto al portico e incinta con un bicchiere di tè freddo e un cappello a tesa larga e ci sono io nella sua pancia ci sono foto di noi quattro conrad steven geremia e io che corriamo per la spiaggia io indossavo soltanto il mio cappello di compleanno mentre li inseguivo mia madre iniziò a mettermi il costume soltanto a quattro anni fino ad allora mi aveva lasciata allo stato brado non mi aspettavo che questo compleanno fosse diverso e ciò era in parte confortante in parte deprimente l'unica differenza era l'assenza di steven quello era il mio primo compleanno senza di lui che cercava sempre di farsi largo a gomitate per spegnere le candeline prima di me sapevo già cosa mi avrebbero regalato i miei genitori la vecchia auto di steven la stavano tirando a lucido con una nuova verniciatura e tutto il resto al rientro a scuola sarei andata a scuola guida e presto non avrei più avuto bisogno di chiedere un passaggio non potevo fare a meno di domandarmi se qualcuno della mia città si sarebbe ricordato del mio compleanno a parte taylor lei se lo ricordava sempre mi telefonava puntualmente alle 902 del mattino per cantarmi tanti auguri a te ogni anno era un gesto carino ma il problema di essere nata d'estate era che ti trovavi lontano da casa e non potevi festeggiare con tutti i tuoi amici di scuola non trovavi i palloncini attaccati all'armadietto o cose del genere non me n'era mai importato un granché ma in quel momento sì un pochino mia madre mi disse che potevo invitare cam e invece non lo feci non gli rivelai neppure che era il mio compleanno non volevo che si sentisse in obbligo di fare qualcosa ma c'era dell'altro visto che quel compleanno sarebbe stato uguale agli altri tanto valeva che lo fosse fino in fondo avremmo festeggiato soltanto noi la mia famiglia estiva quella mattina al mio risveglio la casa profumava di burro e zucchero susanna aveva preparato una torta di compleanno era a tre strati rosa con il bordo bianco con la glassa e una grafia tutta storta aveva scritto buon compleanno bells aveva acceso delle candeline che ricordavano dei minuscoli fuochi d'artificio che sfrigolavano e lanciavano scintille come lucciole impazzite lei e mia madre iniziarono a cantare poi susanna fece cenno a conrad e geremia di unirsi a loro lo fecero entrambi fuori tono e detestabili esprimi un desiderio disse mia madre ero ancora in pigiama e non riuscivo a smettere di sorridere i quattro compleanni passati avevo desiderato la stessa cosa non quest'anno quest'anno avrei desiderato qualcosa di diverso osservai le scintille affievolirsi poi chiusi gli occhi e soffiai apri prima il mio regalo mi esortò susanna mi mise in mano un pacchetto avvolto in una carta rosa mia madre la guardò con aria interrogativa che cosa hai fatto back lei sorrise in modo misterioso e mi strinse il polso apri lo tesoro strappai via la carta e apri la scatola era una collana di perle un intero filo di minuscole perle color panna con un luccicante fermaglio d'oro sembrava antica non qualcosa di moderno che si poteva comprare in qualsiasi negozio come l'orologio svizzero di mio padre era realizzata con maestria fin nel fermaglio era l'oggetto più bello che avessi mai visto oh mio dio sussurrai sollevandola guardai susanna che era raggiante e poi mia madre che pensavo avrebbe detto che si trattava di un regalo eccessivo invece non andò così sorrise e disse quelle parole sono sì susanna si rivolse a me e disse mio padre me le regalò per il mio sedicesimo compleanno voglio che le tenga tu davvero tornai a guardare mia madre per essere sicura di poter accettare lei a noi wow grazie susanna sono bellissime lei le prese e me le allacciò al collo non avevo mai indossato delle perle non riuscivo a smettere di toccarle susanna batte le mani non le piaceva a tardarsi dopo aver consegnato un regalo ciò che amava era il momento della consegna ok ora chi tocca geremia corrad corrad si tocca sulla sedia imbarazzato lo avevo dimenticato scusami belli tra salì non aveva mai dimenticato il mio compleanno non importa risposi ma non riuscivo neppure a guardarlo apri il mio disse geremia anche se paragonato a quello che hai appena ricevuto il mio fa un po schifo grazie tante mamma mi consegnò un pacchetto e torno ad appoggiarsi allo schienale della sedia scossi il pacchetto vediamo cosa potrebbe essere una cacca di plastica un portachiavi a forma di targa sorrise adesso vedrai mi ha aiutato ioli a sceglierlo una ragazza innamorata di geremia dissi mentre aprivo la scatola all'interno adagiato su uno strato di cotone c'era un piccolo ciondolo una minuscola chiave d'argento capitolo 37 11 anni